cari amici di radio libere siamo qui sul palco al festival del giugno alianese sono stati appena decretati i vincitori del trib ring dopo aver ascoltato cinque band su questo palco ed hanno vinto questa sera per la giuria tecnica md na madonna tribute band sono questo bel gruppo di sei elementi vengono fra prato e firenze e quest'anno festeggiano il primo anno insieme quindi il primo anno di matrimonio l'hanno festeggiato con una bella esibizione delle canzoni di luisa ciccone mentre c'erano anche i fuochi nel cielo quindi è stato uno spettacolo molto molto simpatico io ve li presento e vi dico i loro nomi e poi casomai graziella te gli farai qualche domanda allora i nomi del della band vincitrice del trib ring sono alla chitarra ha suonato luigi chiello alle tastiere c'è stato massimiliano marchetti salutate bravi così vi vedono alla batteria gianluca paolino e che è infortunato ha suonato lo stesso appunto prima mi sembrava ci fosse infatti dico io me lo sono perso poi al basso davide chiappinelli e le due voci e coro sono state di chiara bencini e diciamo una front man che dovrebbe essere front woman in questo caso linda pecchioli che c'ha anche una sonora somiglianza con la ciccone non so se te l'hanno mai detto però un po io forse nei tuoi abiti e nelle movenze loro riviste e quindi grazie alla che gli chiediamo a questo gruppo che ha vinto un bel premio perché ha vinto un demo o un videoclip presso l'associazione artigiano che curiosità hai te graziella di chiedergli la mia curiosità è come mai vi è venuta in mente l'idea di una tribute band a madonna a parte la somiglianza della front woman con la con madonna chi parla chi è il parlante chi è il portavoce alla tesoro sei stato te che mi ha portato dentro tesoro chi è è questo ragazzo degli occhi celestero davide parla a no no grazie alla tieniti il microfono io il progetto è nato quasi per caso perché con luigi e chitarista si suonava già in un altro gruppo si faceva qualche pezzo di madonna e anche col chitarista in un altro gruppo nel parlare ci si diceva si ma sono un tributo a madonna si ci piacerebbe quindi poi il battista conosceva massimiliano alla tastiera quindi si è iniziato a formare il gruppo si è trovato una cantante che poi dopo insomma ha avuto la fortuna di rimanere insomma incinta e quindi ha deciso di mollare il progetto e neanche a farlo apposta sera prima o la linda sera cina sempre che lei è la ragazza non mia amica si parlava che io avevo questo progetto lei nel così nel parlare ma se vi serve una cantante io insomma mi calberebbe e quindi neanche a farlo apposta mentre il giorno dopo l'ho chiamato detto senti ci serve la cantante e quindi si è approvato lei insomma siamo subito trovati tutti molto molto bene insomma sa la prove ero iperattiva gli sono piaciuta per quello agli uomini gli piace sempre le iperattive insomma c'era anche la chiara che intanto abbiamo messo anche un annuncio perché si cercava appunto la cantante ci ha risposta anche lei noi si era già trovato la linda meccantante però si è ricarata disponibile anche per fare la corista e quindi si è ma il gruppo si è formato e oggi è vero il nostro compleanno perché i 29 giorni l'anno scorso si è fatto la prima serata insieme live allora avete fatto l'unplane proprio a quest'anno il compleanno la vinci il regalino della vincita qui del tribring è un'altra curiosità che avevo io sono quella delle curiosità ogni tanto mi le coreografie le canzoni va bene sono di madonna le coreografie chi le cura allora le coreografie le curo io e io ho le idee e poi ne parliamo insieme con chiara e le mettiamo su insieme io non faccio il verso a madonna diciamo la omaggio quindi prendo delle cose che fa lei e poi ci aggiungiamo delle cose a gusto nostro e anche secondo le nostre possibilità perché non avendo né ballerini né ovviamente una forma fisica come una persona che lo fa di lavoro cerchiamo di adeguarci il meglio possibile e omaggiare madonna al per le nostre possibilità io avrei una domanda un po cattivella vai no allora siccome siamo stati qui sul palco quindi abbiamo sentito i vari generi e le varie cose secondo voi perché avete vinto per la tenuta del palco questa può essere una risposta poi altre risposte qualcun altro vuol dire perché secondo voi la giuria che è una giuria così tecnica perché vi ricordo che sono due componenti di una radio libera di cui uno da una grande storia una ragazza più giovane due esperti di rock perché hanno scelto voi l'unica band pop c'era ecco l'unica band pop quindi è giusto c'era un buon un buon impatto il sound usciva bene coeso bello unito e un po di scenografia e un po di scenografia quindi quest'unione quest'unione tra una buona voce due due belle presenze un po di coreografia e dietro una band che gira veramente forse è stato questo perché sennò c'era gente che aveva molto più carica sul palco carica rock certo però forse non è come quando in tv vediamo il relai il reality di musica e si dice ci avete trasmesso ci avete dato eccetera eccetera quindi voi siete arrivati al pubblico del festival del giugno agli amici ma io penso proprio di sì grazie alla vogliamo anche chiedergli se hanno degli appuntamenti sì sì avete dei progetti futuri altre esibizioni un mini tour o grande tour ditevi un po chi parla allora è un anno che cerchiamo di suonare in più posti possibile e le prossime date sono il 5 luglio a sesto fiorentino il 7 luglio a modena ci hanno chiamato da modena trovandoci su facebook e poi io vado in ferie vado in vietnam ah no prima c'è il 21 luglio il 19 luglio che andiamo a lamporecchio e poi io vado in vietnam e il primo settembre siamo al verde rame e poi a sesto fiorentino sempre e poi continueremo ovviamente a cercare date per ora ci siamo un attimino fermati perché ovviamente c'è da creare nuovi brani e da riprendere un pochino il via nuove scenografie che io e chiara continuiamo a lavorare tutte le settimane a nuove coreografie per i vari pezzi sì allora complimenti ancora a mdna madonna tribute band loro gli rivedremo il prossimo anno in apertura del festival del giugno alienese che comprende anche diciamo questa vincita complimenti ancora da stefania e da tutti loro e da graziella è un caloroso ringraziamento e tanti 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 complimenti e auguri per il vostro futuro cari amici di radio libere dal festival del giugno alienese la finiamo qua e complimenti ancora mdna cercateli su facebook ciao a tutti